Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha annunciato che nella manovra di assestamento di bilancio saranno stanziati 6 milioni di euro per finanziare il bonus caro voli per tutto l'anno. Schifani ha sottolineato il successo dell'iniziativa con oltre un milione di utenti che ne hanno beneficiato e rimborsi per oltre 13,5 milioni di euro. Questa misura unica in Italia ha aiutato a ridurre l'aumento dell'età di fare e in periodi particolari ha inoltre definito le reggenti polemiche su questa iniziativa in fondate e fuori luogo.